Ehi, tu, 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 tu! Ehi! Oh, chi c'è? Apri! Ehi! Ma ciao! Ma ciao, bella! Ma se Maometto non va alla montagna? Eh, ci... No, no, abbraccio... Ma Maometto! Esatto! Per fortuna di sé, hai fatto! Beh, oh, min... C'è che... Ah, giusto, giusto! Regole, vediamo se sei ok! Sono a posto? Eh? Tutto a posto! Benon! Ben! Operati! Sei venuto a vederci? Sì, beh! Ehi! 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 Grazie a tutti. Aspetta, aspettali. Aspetta, aspettali. Aspetta, aspettali. Ma che brave che siete. Ma bellissimo, brave. Visto che tu vai sempre in giro con le spalle. È vero. Adesso prendiamo i pattini e vediamo come sei. Ma mica darmi i pattini rotti, eh. Ok, d'accordo. Proviamo. Facciamo i tripani. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Ecco. Ecco qua. Oh, 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 oh. In piedi sono in piedi. Fammo vedere. Allora, sulla gamba. Ecco qua. Eh. Fa vedere, fa vedere. Mo, mamma mia. Allora, aspetta che ci ho lasciato al gia. Al ginocchio, mo. Ma, ai, 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 ai. Ai. Va bene. Va bene. Grazie. Ciao, ragazze. Eh. Vado via di là. Oh. Ma si apre. No, 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 no. Bombala.